abbiamo iniziato la sessione di max ciao elena ciao abbiamo sentito i suoi punti ti accompagno contando da 5 a 1 e mentre conto ti connetti più profondamente a max 5 4 3 2 1 dimmi se lo vedi sì lo vedo arrivare su un tappeto volante come aladino secco aladino vestito tipo ladino e cos'è un avanti vecchia vita si è una vecchia vita me la fa vedere perché lì era riuscito a utilizzare le sue capacità con gli anni eventuale molto alta come mediani che si con una percentuale molto alta il 1826 contro quale capacità medianica di oggi in che senso contro cioè oggi ha delle capacità mediane che 0 capacità mediane che 1826 hanno data 1826 assi ma scusami se possiamo dare una cifra le capacità mediane che di max aladino sulla scala del cento per cento cioè 100 per cento è il massimo delle capacità mediane che ok direi un 30 per cento e oggi 15 va bene ci dà l'autorizzazione max sì 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 ok guardalo dimmi cosa ti viene cosa ti viene e come lo vedi mi è venuto che mi ha fatto vedere quella vita perché in questa vita ma come se la ps gli avesse mandato il ricordo delle capacità medianiche che aveva allora e lui stesse cercando il modo per riattivarle come se dovesse cercare in un cassetto da qualche parte nella testa le istruzioni per utilizzarle di nuovo ok dov'è questo cassetto allora a livello esoterico nello spazio lo vedo ho avvenuto una roba bellissima ho visto allora vedo tipo come se fosse una sfera e quella lì è la sfera delle capacità medianiche ok ci sono un sacco di sfere sparse in giro sensazione bellissima e ogni sfera è una capacità è una abilità un'abilità esempio c'è la sfera della lettura del pensiero sì c'è la sfera che permette di realizzare degli apporti sì c'è la sfera della telepatia c'è la sfera del teletrasporto guardane delle altre che non ha nominato c'è la sfera del spostare gli oggetti e le telecinese ok vedo la sfera della lettura del pensiero vedo la sfera della guarigione e degli altri sì c'è quella sono due diverse poi c'è quella della farsi scudo dal interferenze quello che sanno fare le ps delle pietre si le perle ma ce ne sono infinite c'è la sfera del sì allora le guarigioni agli altri con l'autoguarigione sono ce ne sono varie nel senso che sono varie capacità c'è la sfera della da alzare le vibrazioni proprie e di e degli altri anche a distanza c'è una sfera a sé c'è la sfera della felicità della serenità della felicità c'è la sfera dell'abbondanza c'è la sfera della della bellezza dell'ambiente c'è la sfera della propria bellezza c'è la sfera della creatività nei vari campi quindi vedo tipo quella artistica musicale vede la spera della creatività teatrale vede la sfera della creatività decorativa ci sono varie sfere di creatività come se fosse una grossa sfera creativa e poi delle sferette no anche alcune forme di sport artistico sì 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 molti non lo capiscono però la ginnastica artistica partito il ginnastica artistica il nastro a nessuno dice molto in realtà è un'espressione fondamentalmente artistica sensibilità tecnica e artistica e molti più alti si prendono quando si esprime con quella performance un concetto coerente con la musica corrette con i movimenti il nastro deve essere deve cadere in una certa maniera io lo so ce l'avevo fatto alle superiori quindi ecco vedi non sopevo fatto un esempio ok queste capacità mediane che sono delle sfere sono colorate di dimensioni diverse sono hanno una superficie diversa una dall'altra come sono fatta le superficie la superficie più o meno la stessa cambia un po la dimensione e il colore allora il colore va un po per argomento diciamo per tipologia di siti capacità e la grandezza dipende da dall'estensione del contenuto c'è per la telepatia non è grossissima perché diciamo le istruzioni sono quelle ok mentre per la creatività che abbastanza ampia ci sono varie istruzioni quindi poi ci sono delle sferette sotto più piccole vedo proprio dove questo può questo è un posto preciso sì allora è come se allora è come se io fossi in piedi sulla terra sulla superficie della terra c'è la sfera terra io sono in piedi lì e mi devo allungare un po come se fosse a un piano a una certa distanza dalla terra come si chiama questo posto e in che dimensione si trova si trova nel viene venuta quarta dimensione si chiama mi viene la terra dell'evoluzione la terra dell'evoluzione si chiama è proprio un piano con queste sfere ok tu vedi la terra tonda o piatta io la vedo la vedo vedo aspetta ci giro intorno e sopra la vedo sferica così ma è la terra e sferica o non c'è una cupola c'è una cupola sopra la cupola c'è ma vedendola così è quello che ti dico che vedendola così potrebbe mi è apparsa un po come una cupola e poi quelle cose che si scuotono con la neve e se la bune ecco quindi c'è sotto la terra e poi la cupola sopra va bene max a quanto rigora un miliardo e mezzo percentuale di consapevolezza 210 per cento di sp piedi ps 40 e 60 vite precedenti 985 poche nonostante 210 per cento di consapevolezza in partenza che è tantissimo è una buona vibrazione percentuale di cervello 87 8,7 quale incidenza a la percentuale di cervello utilizzata con il mestiere che non nomino di max che è un mestiere artistico molto bello posso nominarlo il tuo mestiere no ok allora diciamo che mentre lui quello che ho visto è che mentre lui fa il suo lavoro adesso non lo sta facendo ma mentre fa il suo lavoro cioè mentre lui fa manualmente il suo lavoro entra in uno stato possiamo dire simil meditativo dove lui si concentra molto entra molto in contatto con la sua ps ok quindi è come se questa parte creativa sua che a lui piace fa sì che lui possa essere centrato mentre fa il lavoro poi vabbè dove lavorava non era un posto ideale quindi mi ha fatto passare un po in quel posto lì proprio non è che riusciva a far essere così centrato con se stesso però se lui potesse fare il suo lavoro diciamo in un posto indipendente in autonomia dove non ha interferenze esterne per lui sarebbe molto evolutivo cioè il suo cervello potrebbe essere allenato ad aumentare molto le sue capacità se lui lavorasse per se stesso avesse il suo laboratorio a cavolo farebbe delle cose bellissime e allenerebbe tantissimo il suo cervello ad aumentare le sue capacità potrebbe arrivare a diritto a ritrovare le capacità medianiche che aveva nella vita di alla 30 capacità medianiche di oggi quali sono immagino che non sia una capacità sì e le altre no non fa ma che sia un po un po per cento di quella 10 per cento di questa sono capacità medianiche artistiche immagino sì allora appunto questa capacità a livello creativo artistico per il suo lavoro vedo tanto e poi vedo che sarebbe sente potrebbe sentire magari non se ne rende conto ma potrebbe sentire l'energia delle persone che lui conosce a cui ci tiene a distanza cioè se una persona felì contenta se triste se le vibrazioni più alte o meno alte vedo proprio che le sente forse è anche per questo che ultimamente fa fatica a socializzare e ha sofferto molto il che mobbing fosse il clima orientato esclusivamente al profitto che si era formato al lavoro max mi ha appena fatto sapere che il suo lavoro era molto basico cioè lui si occupava di fasi forse preparatorie poco meno poco artistiche quindi a maggiormente se si dedicasse facendo un laboratorio e si dedicasse dall'inizio alla fine alla produzione dei suoi oggetti con anche appunto appunto il contributo finale artistico non soltanto la preparazione del materiale all'inizio ma appunto la realizzazione dell'oggetto finale sarebbe un po il suo sogno no è proprio in questi senso esatto esattamente va bene tecnicamente vediamo le sue interferenze eteriche e se ci sono mentali partiamo dalle eteriche allora vedo un felino ed è sdraiato un po in alto un po in alto che guarda giù maschio femmina maschio con un po d'aria di insufficienza no di sufficienza se provocante per dire allora dovrete ciotola di croccantini sotto il naso al gatto i croccantini sono ricavati dalla sua energia quindi lui si mangia da solo ci si butta sopra è arrivato vicino e poi ha fatto un po come per dire no no solo che è come se come glielo messa lì con l'energia nostra mia e tua è come se la ciotola fosse una calamite quindi quasi che gli entrassero gli entrano i croccantini da soli in bocca contro la sua energia i croccantini cerca di allontanarsi allora la sua faccia dalla sufficienza l'ha cambiata in faccia di rispetto ok è giusto fosse è giunto fosse il caso di inchinarsi per mostrare rispetto a max e hanno i due dice perché lo devo fare perché chi vibra più alto ma io e te e anche max ok ma deve dirlo lui chi figura più alto voi chi ha una parte subliminale chi no dicevo il ce l'avete io no ok quindi mi sembra giusto che chi è inferiore si inchini a chi è superiore e l'ha creato mi sembra giusto noi l'abbiamo creato sto scemo quindi si deve inchinare si ha detto però io provo invidia per voi e quindi io voglio quello che voi avete a me non interessa nella sua invidia nei suoi desideri a me interessa che lui riconosca la sua inferiorità e ci saluti come è giusto che sia inchinandosi faccia a terra e non atteggiandosi a ladro della nostra energia qui la tattica faccio la divinità e vi spavento non attacca qui regoliamo le cose come devono essere regolate chi è sotto si inchina al creatore che siamo noi con rispetto facendo il pavimento togliendosi il cappello senza di noi lui non esisteva quindi la faccia da gatto sbruffone anche no adesso lo sta facendo ok chi non è d'accordo con questo stile e con questa tecnica smetta subito di vedere questi video vado a fare altro ma da accendere la televisione sul canale 5 subito c'è striscia la notizia che l'aspetta col gabibbo perché sembra l'essere essere sburoni ma nella realtà è molto importante questa parte questa parte è fondamentale che la grande consapevolezza muove queste pedine queste entità pensano dicono e noi abbiamo paura di loro libera mi da rettiliano aiutami mi dicono non avete capito niente lo continuate a non capire niente se continuate a dire libera mi da rettiliano non avete capito niente peggio il felinoide che è il top delle entità diciamo razze ok poi chi c'è oltre il felinoide c'è un falconiforme che però allora era già di prima no ha guardato cosa come ovviamente era agito col felinoide e quindi ma di che abbassa un po il becco e dice vabbè ho capito non fatto lo sbuffone perché tanto ha visto che non funziona sappiamo che al poter chi ha il coltello dalla parte del manico allora però vedo che lui fa parte di un progetto che interferisce con max il falco se come si chiama il progetto dire direction si veniva anche l'italiano ma il più bello in inglese quale direction allora la direzione di come far andare le informazioni di come prendere energia vedo come se creassero dei dei rulli trasportatori da una base militare aliena perché forse nel sottoterra ok ea livello eterico creano questi rulli trasportatori arrivano negli impianti che mettono in alcune persone mandano un'informazione raccolgono l'energia e la riportano a loro ok lo fanno principalmente durante la notte vedo come se ci fossero su questi nasi trasportatori delle palle entrano nel corpo e dagli impianti come se questi impianti fossero degli accumulatori di energia anche queste palle si riempiono e tornano indietro un altro trasportatore con un'unica direzione le palle vuote entrano le palle piene sono uscite le palle piene in effetti le palle sono piene un modo come un altro era dire sempre la stessa cosa queste entità quali sono falconiformi felinoidi i falconiformi fanno il lavoro sporco e l'ordine viene dai felinoidi c'è qualcuno sotto i falconiformi ma non in questo caso no sopra i felinoidi chi c'è pose idone a seconda si riprova seus si zeus c'è diciamo che è come se facesse un favore in questo caso pose idone a tener sento sott'occhio però non che queste entità i teri che sono comunque del primo universo sono state prestate certo edita mentali ci sono se ce ne sono due già viste prima primo visto mentre esponeva i punti una cosa che non avevo visto c'è ne apparsa oggi lei avevi mai visto prima se non avevo mai visto e c'è è come se ci fosse a volte come se ci fosse un entità mentale collettiva che collabora con le entità mentali individuali tra virgolette rispetto a uno stesso argomento cioè quindi a livello sociale in un certo periodo succedono delle cose uguali per tutti più o meno ok ecco quelle lì sono fatte da questa entità mentale collettiva che collabora con le entità mentali che sono che interferiscono con le singole persone caso in caso ok esiste una entità mentale legata alla sbattimenti e gli sbattimenti da cdvac sì certo assolutamente da individui sbattimenti vuol dire paura di prendere questa gravissima malattia paura di essere infettati paura di infettare più o meno paura di non avere i fogliettini paura di dover essere obbligati a infilarsi lago ci sono varie sotto categorie sì ma diciamo l'entità mentale cvac del momento creata da poi quindi esiste esiste esatto e quella lì è di livello 8 quindi un livello molto alto e sotto ai vari gradi di collabora con tantissime entità mentali di vari livelli va bene vediamo le due di max sì allora ne ha una di livello 1 e una di livello 2 ok bassissima curioso di sapere cosa che quali compiti sono chiamati ad assolvere allora collaborano con l'entità c'è un entità mentale collettiva che è quella che in questo periodo da poco direi un paio di mesi tre massimo ok rispetto a diciamo che cerca di agire sulle persone che non vogliono cinivaccarsi ok e che non vogliono sottoporsi neanche al esami nasali esatto a punitam bellissima o nicola y sono dei cavallini certo chiamano tutti sam se che quella cosa che fa sì che ci sia un enorme stanchezza e che ci sia il disturbo di del sonno l'ho vista prima proprio mi è arrivata diretta mentre scriveva queste cose ok ok questa è generale rettivata mentale collettiva ed è chi livello è quella lì a livello 5 però collabora con varie entità mentali di vari livelli dall 1 al 5 ok a max di livello 12 e quindi diciamo ai disturbi ma lievi ok la 12 che cosa fanno la 1 è quella che che gli da questo in questi disturbi qua lievi di sonno e che cercano di insonnia e di stanchezza la 2 è quella che gli fa che lo blocca rispetto al mondo esterno rispetto alle amicizie rispetto a trovare un partner rispetto alle ai rapporti sociali in generale quindi anche questa questa fatica che aveva sul lavoro rispetto appunto ai rapporti sociali con i datori con con i suoi superiori ok bene vediamo un po di impianti allora primo visto che sono stati rimessi sui gomiti ce li aveva quando ha fatto l'intervento dentro con la roba c'era anche un micro impianto a destra poi era andato via da solo adesso gli hanno rimessi gli hanno rimessi per fare quel quel progetto del nastro trasportatore quindi il nodulo chiamiamo così ai gomiti uno è stato tolto l'altro si è riassorbito erano impianti in realtà li hanno rimessi se adesso vediamo avanti se poi ne ha uno più o meno dove c'è il pube e poi ne ha uno al centro del collo più o meno dietro la tiroide direi ok basta ok causa tutta ricade la scarsa memoria e concentrazione l'entità mentale sentirsi inadeguato è quella quella di livello 2 si sente inadeguato con le persone con gli mancano le parole o concetti che conosce molto bene nei discorsi e fa una botta figura eccolo lì è proprio quando lui si trova al rapporto diretto con la persona l'entità mentale è come se gli togliesse la frase di colpo tu e promette un blocco è proprio un impulso che mandano causa tutte rega della tosse credo nervosa perché non ma poi no infatti non è esoterica è una reazione fisica alla vescica cioè va sempre in bagno con le 20 atti che esami medici fatti niente di male tutto posto un po insolito per il medico però impianto in causa esoterica agitazione è una conseguenza del di questa no sai quale ecco l'agitazione no e la sua capacità e la sua capacità a sentire le persone c'è queste quando lui è agitato sente qualcuno che è o triste o depresso o comunque con vibrazioni basse calo energetico calo energetico è l'entità di livello 1 e quelle che quando collaborano con l'entità collettiva nodulo polso sinistro era un impianto non c'era più e infatti l'ha estratto tolto in quell'occasione sì sì esatto l'impianto eterico segue a poco estraneo fisico non sempre a volte come se l'ho già visto altre volte come se quando mettono l'impianto anche eterico a volte il corpo se ne accorgesse e reagisse quindi fa voglio me lo si gonfia fa la ciste fa proprio la ciste intorno per inglobare il corpo estraneo e proteggere il resto del corpo e a quel punto fa venire magari cioè la persona ha voglia di toglierlo quindi c'è anche l'intento e l'intento porta l'operazione cina e via ok pensa che in alcuni ambienti olistici l'asportazione di è assolutamente sconsigliata perché se arriva il corpo che vuole che ci sia abbiamo capito niente infatti ok esatto dopo la prenotazione della sessione da un mesetto circa si indolenzisce il gomito tanto che non riesce quasi ad estendere il braccio molto lentamente questa cosa è un po tornata alla normalità ma non del tutto allora vedo che è stata mandata come se gli fosse stata mandato una scossa ha fatto un tentativo se sono di capire con che senso ma come se dovessero fermargli questa parte del corpo provare a fermargli questa parte del corpo perché se lui la muove sulle avesse mossa sarebbe arrivato a fare questa sessione alla fine ha fatto lo stesso causa tecnica della solitudine ma ma quello a livello 2 episodio un po di anni fa con una ex si devono chiarire vanno in macchina sono in macchina vada avanti sono vicino un cimitero lui ha una reazione non tipica sua cioè inizia a piangere e non si può smettere cosa è successo allora vedo vedo che si è aperto un portale energetico ok hanno vedo uno scarico di energia dall'alto ok forte e poi è come se si fosse risucchiato da solo e chiuso da solo in quel momento lui a livello fisico ha mollato tutto ok è un influenza del cimitero è il chiarimento con la ex è una fattura eliminata lui sostiene fattura eliminata no vedo che allora poteva essere il cimitero non c'entra è il posto isolato è il posto isolato che ha fatto sì che le vibrazioni fossero quelle adatte per creare questo canale energetico e con la con la sua ex anche ok quindi questi due elementi erano fondamentali per fare questo canale mentre si chiariva allora prima le vibrazioni si sono abbassate tantissimo che si è creato il canale scarico di energia negativa ok e poi con il chiarimento vedo proprio che lui è stato in grado di rialzare le vibrazioni come se avesse chiuso e spinto il canale via l'immagine è proprio questa cosa così e poi altre vibrazioni e come se si alzasse un piano e viene chiuso il canale poi sparisce in quel momento lui scioglie ok non è un fatto così importante mi sembra di capire no perché si è chiuso lì è stato in grado di eliminare avrebbero voluto fare diversamente nel senso creare un canale da un portale da aprire quando loro avrebbe fatto comodo ma pensando di vibrazioni riuscito a chiudere causa sotterica del perdere il lavoro e del non essere in sintonia vabbè non è una causa di avere comunque lavoro in cui non era in sintonia diciamo con i capi e se vogliamo anche i colleghi poiché troppo mirato alla produttività meno l'aspetto umano esatto allora quella è la sua sensibilità verso i rapporti con gli altri ok lui sente tanto le energie degli altri e l'entità di livello 2 fa sì che lui sia si senta inadeguato ok nei rapporti umani e al lavoro un posto dove uno ci va spesso ci passa tante ore quindi è più evidente l'entità di livello 2 fa sì che lui si senta inadeguato in maniera tale che lo blocchi nella sua evoluzione anche a livello di capacità sensibili sensitive e quindi ok nel 2014 a partecipa un corso primo livello di reiki c'è qualcosa che non va lo obbligano a tenere gli occhi chiusi in momenti di concentrazione l'insegnante sostiene che se si aprono gli occhi non si ha fiducia succedono delle cose strane anche lì decide ma mi sembra di concluderlo però di non andare avanti e di non praticare dei grandi trattamenti che è successo brevemente in quei frangenti allora diciamo che il meccanismo è stato lo stesso di quello del che è successo con la sua ex ok quindi ha aperto un canale le vibrazioni erano poi in quei posti lì dove ci sono più persone che fanno queste cose quasi sempre si aprono dei canali e viene ciucciata l'energia di è riuscito anche lì in qualche maniera per una sua capacità ad alzare le vibrazioni e chiudere il canale e quindi poi si è sciolta si è sciolta la cosa e quindi gli sono scese le lacrime e il fatto che abbia deciso poi di non praticare più reiki è stato un messaggio della ps che lui ha colto perché se avrebbe aperto tutte le volte questi canali sia per lui sia per la persona che avrebbe trattato e quindi la piel ha ascoltato il messaggio della ps diciamo inconsciamente va bene chiamiamo tutta la sua famiglia vivente primis il fratello nel cinema il film è già stato proiettato chi arriva l'ha già visto l'ha visto in un secondo vediamo chi si presenta allora vedo la mamma fra il fratello e poi vedo una ragazza intorno ai 18 anni è arrivata una ragazza intorno ai 18 anni potrei dire una nipote una cucina nel ragazzo quindi detto fratello madre ragazza basta si ok si siedano dove vogliono quando l'anno hanno preso posto vedranno che sotto il sedile c'è un contenitore di pop corn che non contiene pop corn ma pillole e caramelle vick vibrazione informazione consapevolezza informazione di tutte le nostre sessioni consapevolezza non lo spiego vi di vibrazione la vibrazione si può alzare a livelli che non hanno un limite questa è l'informazione più importante riguardante la vibrazione non c'è un massimo un massimale non c'è una vibrazione in cui stai bene c'è una vibrazione che si può alzare a qualunque livello miliardi miliardi di miliardi miliardi di miliardi di miliardi di miliardi noi possiamo alzarla quanto ci pare oggi solo di 100 miliardi domani di 100 mila miliardi poi dice mille miliardi dopo domani come ci pare è così ed è così punto non discussioni cose storie e ma babà è così la creatività la creazione è questa la pillola vick è potentissima se vogliono alla fine della sessione se ne mangeranno una o cento anche lì il contenitore le contiene infinite anche se ne basta una non è necessario sufficiente un gran numero chiamiamo la nonna materna come disincarnato allora è arrivata vestita da odalisca cosa fare allora mi è arrivata vestita così perché voleva dire che lo conosceva in quella vita dove lui era di palladino ok e quindi voleva dire che era già un'altra vita che hanno vissuto assieme ok se assume la forma di nonna materna come la vedi la vedo la vedo con gli occhiali capelli grigi raccolti dietro tipo con signora si più o meno un lettone un golfino è molto un golfino verde con una camicetta nera sotto e una con bordeaux e delle scarpe nere e una borsetta nera non troppo grossa cosa vuole dire a max dice che lei quando lui era piccolo lei è come se quando lui faceva le sue cose creative stava nel suo nei suoi nei suoi spazi creativi nel suo mondo creativo lei si sentiva a suo agio sentiva come se fosse un'energia come se fosse in una bolla senza spazio tempo la vedo proprio che in quei momenti lì è come se lui aprisse a lei uno spazio di energia ideale di ricarica di energia vitale e lei se lo ricorda questo e lo sentiva tanto un portale aurea facciamola andare lì dentro poi segui la mostra la strada verso la sorgente che succede sto andando io la seguo sto entrando divise se ci può entrare se io la vedo pinta la fanno entrare quindi o vedi che lei entra perché lei vuole lei entra perché vuole entrare ok ma potrebbero non farla entrare mi spiego ieri è stato fatto un lavoro con sabrina questo lavoro ha creato un precedente quindi ora si può entrare ma io vedo che è come se se tu se tu hai una certa consapevolezza puoi entrare cioè come se lo decidi tu anche questa cosa è come se lo decidessimo noi quindi ci mettiamo il limite che non ci fanno entrare se non siamo pronti ad entrare sì però ieri c'è stata una specie di litigio tra me e la sorgente di fatto due nonni erano fuori essere le fiamme una dell'altro sono arrivati fino ai bordi non sono fazzati fatti entrare e allora se ci sono delle regole le regole a parte che non esistono possono essere cambiate in ogni momento in ogni caso se ci sono delle regole vanno rispettate quindi alla fine li ha fatti entrare secondo me si è formato un precedente si è formato un cambiamento a poi il cambiamento della regola se sì ok sì sì la nonna di max entra entra entrata si sia vedo che entra vedo dentro da lì può lasciare un messaggio a max ormai in tardi l'unica cosa che viene però mi sembra abbastanza inutile tra virgolette tutto e uno va bene la salutiamo e lavoriamo lavoriamo prima su max poi sulle capacità medianiche di tutti ed infine su queste entità collettive nella mente collettiva così il punto legato all'anticini vacca di max di fatto viene svolto bene max può andare al cluster accompagnalo o di non sta vediamo cosa fa da solo si è da visto 985 vite come minimo 985 contratti o anche di meno magari sono contratti che l'ha ripetuto in tutte le vite non credo perché se sono così poche sono quelli si hanno fatto ci sono ancora lo che impara in fretta e che si mette nuove sfide non ripete sempre le stesse le stesse sono 4000 vite 3.000 vite ci ha fatte si stessi infatti sono tantissimi c'è con se non sono 900 è ma sono più o meno 800 contratti circa cosa fa come li vedi li vedo come come delle lastre di sasso sasso occhia tipo quarzo in piedi una di fianco all'altro in una stanza può circolare semicircolare così una di fianco all'altro e sono i vari contratti le varie vite cosa ne vuole fare di questi massi quarzi quarto bianco sì quindi le parole sono scolpite sulla lastra si sono pesanti sono sono gli ultimi contratti diciamo che vedo che sono gli ultimi contratti della ps prima della c'erano le cose ancora pesanti che erano rimaste da andare a consapevolizzare ecco hanno sono pesanti nel senso difficili da da sciogliere tra virgolette da consapevolizzare dice la pia dice max che la ps ok quello di questa vita cosa cosa recita tanto tanto è la tua capacità medianica sensitiva ok tanto ti metti interferenze forti per equilibrare in maniera tale che quando tu avrei fatto il lavoro lo avrei fatto definitivamente non so se risori via no io ho capito allora lui ha una quantità di capacità medianiche di sensitività ok in questa vita che ne sono 70 ok se lui avesse queste capacità fosse nato già con solo con queste capacità senza interferenze sarebbe arrivato tranquillamente a a fare il teletrasporto cioè usare il cervello se non al cento per cento quasi c'è di male è che è venuto qua a fare questa esperienza di questa vita e non c'è nella dualità se avesse avuto quello non sarebbe venuto in questa vita in questa vita è venuto per far sì che lui mettendosi delle interferenze che pesano tanto quanto in maniera tale che poi togliendo le si rende conto completamente di quanto sia forte la sua capacità ok trasformiamolo questo mondo facciamolo diventare un mondo di persone con capacità medianiche lettura del pensiero guarigione autoguarigione teletrasporto telecinesi tutto bene max cosa vuole fare di queste lastre via certo bene tuttavia non l'ha fatto in un attimo aperto il portale ha buttato a chiuso avatar solo vedi lo vede così disperato piangente perché dice cavolo una delle persone una persona così voluto si può bebo concino l'abbiamo l'abbiamo persa sia via via non mi porta fuori calci dove dico io via via l'avatar lo fa max se si era già fatta già chiuso andiamo nel suo corpo emozionale piazza pulita anche lì si sono tutte vibrazioni positive tutte emozioni con vibrazioni alte le altre negativi sono già andate ok ora esistono ancora interferenze impianti entità mentali niente max era soggetto all'entità mentale collettiva 8 e 5 poco bonitam e cinema è un cavallino i cinivac sono dei cigni di un certo tipo di laghi si esiste sì ma poco poco non era tanto interferibile ok e allora andiamo nella terra dell'evoluzione dove risiedono le sfere delle capacità medianiche voglio esisteva nel passato un sensitivo medium su cui girano tante voci tante idee mi più tendono a idolatrarlo io non avevo l'altro nessuno gustavo rolle che ha famoso per tante cose tra cui gli apporti e gli apporti non erano un anello d'oro una carta da gioco no gli apporti erano una moneta antica dell'antica roma quindi procurarsi non c'è trucco non ci inganno procurarsi una moneta dell'antica roma era proprio così semplice in più la moneta dell'antica roma la suggeriva la persona più scettica invitata in queste serate quindi non c'era nella possibilità di organizzarsi pare che gettasse oggetti contro una parete e che atterrassero nella nella stanza accanto oltre la parete e che anche questo si facesse con delle chiavi di casa di invitati che poi funzionavano erano quelle in effetti passavano attraverso la parete quindi la materializzazione la materializzazione la rimaterializzazione la chiave gettata contro la parete o l'apporto voglio una moneta romana sotto questo bicchiere al suo bicchiere c'è la moneta romana queste sono capacità medianiche fare max come a visirle queste sfere ok andiamo anche noi due lì nel terra dell'evoluzione io le voglio tutte le sfere anche io anche a me mi piacciono tanto per se si ne voglio tutte anch'io come si acquisiscono allora si acquisiscono in generale per tutti non ascoltando i pensieri cioè quella cosa che fa sì che noi abbiamo le vibrazioni basse non riusciamo a vibrare sempre a livelli alti di livelli alti che fanno sì che noi possiamo fare qualsiasi cosa usare il cervello il più possibile sono i pensieri l'idea cioè è proprio come se io mi centro seguo la mia ps ok alzo le vibrazioni e poi arriva un pensiero un'idea che di mezzo alla mia vibrazione di colpo l'immagine è questa ok perché l'ideale poi è che va bene ma quello che incide negativamente sulle capacità mediane che è chiaro però le capacità mediane che dove risiedono nel dna sono state cancellate sono state addormentate nel cervello stesso discorso il cervello cervelli sono attivate sì sì l'informazione c'è come se fosse il bottone spento ok ok c'è come una connessione non so sulla capacità mediane che apporti c'è uno con il cervello di tutti noi che è interrotto esatto che diciamo ogni capacità ha una sua vibrazione ok però per riattivarla completamente è come se dovessi vibrare ognuno di noi deve vibrare a quella vibrazione per un po cioè come se dovesse allenarla alleniamoci tutti e tre max ed io ci mettiamo come nei quiz no intorno al nostro banco con il pulsante non c'è nessun pulsante e ognuno di noi tre fa quello che gli pare io faccio questo riattacco tutti i cavetti di tutte le parti del mio cervello disattivate corrispondenti a ognuna di queste sfere delle capacità mediane che abbiamo elencato e non solo riattivo tutti i cavetti e alzo la frequenza mia in generale ma di tutte queste parti del mio cervello in modo tale che la connessione funzioni perfettamente sia stabile e che la capacità medianica di volta in volta sia perfettamente efficiente se vuoi fare la stessa cosa anche tu falla se la vuole fare max ora che è pulito la faccia dimmi elena ho visto proprio che noi tre stiamo facendo l'abbiamo fatta e si crea una rete di connessione proprio come se riattivi come se ci fossero proprio dei passaggi di luce ok lo vedo come una rete su tutta a livello mondiale ok quindi noi ognuno di noi ogni persona ha una sua rete a livello mondiale e se tutti ri accendessero le loro reti sarebbe una roba unica c'è tutta la terra e tutte le persone diventerebbero luce cioè non ci sarebbero più spazi interconnesse esatto tutto ok e noi abbiamo riattivato le nostre tre adesso ok chiamiamo sabrina chiamiamo monica chiamiamo l'altra monica e stefania chiamiamo edita mirela facciamo fare questo lavoro se vogliono tutte dopo che l'hanno fatto chiama tutte le ps le pie che si vogliono presentare indistintamente a fare lo stesso identico lavoro esclusi quali che mi mettono il pollice giù beh vorrei vedere andassero a raccogliere ravanelli nell'orto gente povera e stupida inutile che succede partiamo da sabrina e monica allora tutti noi che ha il nominato o mentre lo facevano anche loro come se si fossimo uniti vedo un'unione e siamo alzati ok quindi fruttua fruttuiamo 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 stiamo fruttando frutti a fruttuando quando si ok con la nostra rete che va ovunque e poi vedo tutte le ps intorno che si uniscono alla rete e il c'è un movimento energetico è presente come quando hanno fatto l'albero della vita a milano l'illuminazione che faceva così ecco quello è rappresenta quella roba lì e la rete lì che fa così di continuo e le ps che sono arrivate non sono tantissime sono il 30 per cento ma non è male no no tutti i maghi adesso in poi io non sento a crederlo d'altronde il fatto che ci sia una connessione tra cervello e capacità mediani che è confermata anche dalla sessione di sabrina legata alla percentuale di cervello utilizzata ed era venuta fuori in quella sessione che l'allenamento nella tele cinesi guardo il tappo della bottiglia finché non lo sposto col pensiero e mi alleno tutti i giorni con costanza portava un aumento della percentuale diceva l'utilizzato svariati punti da 12 a 15 sono tanti quindi c'è una coerenza lei vista anche tu questa coerenza bene i cavetti io li ho attuati ho alzato la frequenza ho fatto il lavoro ok tu anch'io sì sì assolutamente se sabrina se monica se monica 2 stefania dita irela ok e il 30 per cento di tutti qualcuno della famiglia di max per esempio quelli del cinema la ragazzina di 18 anni ok benissimo ora chiamiamo tutte le ps lp e quelle che arrivano hanno il compito di chiamare quelle che non arrivano e mostriamo a tutti l'esistenza della l'entità nella mente collettiva l'entità collettiva 8 e 5 il signo e il pony pony tham e cinivac non chiede l'esistenza di tutte le entità mentali sia quelle collettive che quelle singole chiamiamo tutti nella mente collettiva a guardare la situazione a vedere le connessioni i cavi a vedere degli esempi gli esempi di max per esempio anche se un'entità 1 e 2 non sono un granché ma anche lui è stato influenzato dalla 8 e dalla 5 insomma la storia di max come la storia di chiunque è di esempio per comprendere chi vuole per se stesso mettere in un portale definitivo le proprie entità mentali ma soprattutto quelle collettive qui ora lo può fare la ragazzina di 18 anni è una cugina una tua parente sappiamo e le navi così figlia di tuo fratello una cugina dimmi chi si presenta quanti si presentano in percentuale il 70 per cento bene diventerà prossimo mese l'80 al 90 al 190 ok i prossimi sono i mesi max lo fa sì sì ok quindi se ne fregherà completamente dei cili vac e dei poni tam oggi se ne è già fregato ma se ne fregherà completamente esatto depotenzia completamente scadenze regole depotenzia nessuno può imporre a una nazione delle cose se la nazione non le accetta non si può di fatto il popolo e sovrano questo è vero sennò siamo nella dittatura al momento non lo siamo ancora ok bene perfetto non mi senti max mi senti sentite sì sì ok max si è bloccato chissà perché adesso alla fine si bloccano cavolo soprattutto arriviamo va bene nuova vibrazione elena di max 50 miliardi nuova consapevolezza 180 per cento nuova psp e rapporto la ps e a 70 e la pia al 30 sono invertita viene però secondo me si torneranno arriverà di un equilibrio vite precedenti 520 cervello 8,7 era mamma mia adesso 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 in questo momento se rimane così all'11 per cinque elena ti chiedo di guardare quella cosa solo un secondo e poi mi dirai e di guardare senza dirlo la percentuale di cervello tua e mia senza dirlo ma da cervello non dico ma l'altra cosa questa per oltre poi e la dici dopo me la dici dopo ho visto pronto sì sì ok ok messaggio finale della ps di max a max dicevo in questo momento è come se volessi farti darci a tutte e due un booster una una cosa spinta sì una grossa spinta perché in questo momento tu puoi reggerla e poi pian piano imparare ad aumentare la nostra consapevolezza con gradualmente ma oggi ho il desiderio proprio di spingere circa le capacità medianiche cosa ha da dire non spaventarti quando senti quando senti le energie degli altri le energie esterne le energie in generale ti fermi si conti fermi ovunque sei tutti fermi fai tre o quattro respiri profondi e provi a sentirla proprio pian piano in questa maniera riuscirai a capire che energia e quindi sentirai la maggior parte sono delle persone esterne è probabile che tu senta più spesso quelle di chi è triste o ha paura o arrabbiato e meno spesso quelle di chi è contento e sereno ma a volte capiterà che sentirai tipo un'estasi e quelle sono le persone che in quel momento hanno avuto un grosso sbalzo di vibrazioni positive verso l'alto che aumentano ma dice proprio non 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 spaventarti anzi fermati fai quattro cinque respiri e le senti e pian piano imparerai a conoscerle e aumentare la tua capacità questa capacità questo è il primo step dopodiché se tu rimani in questa come oggi al arriverai alla fine della tua vita che riuscirai anche a spostare gli oggetti vedo che vedo che così se lui rimane così potenzialmente potrebbe arrivare a un 30 per cento dell'uso del cervello alla fine della vita molto molto bene posidone udino cosa fanno circa questa sessione importantissima scoperto delle capacità medianiche ed eliminazione quasi totale delle entità collettive che più ci danno fastidio oggi a in questo momento io vedo che si è creato un guscio tipo vetro spessissimo intorno al primo diverso ok e vedo poseidone di là che dai pugni per riuscire ad aprirlo arrabbiato nero perché abbiamo chiuso questa cosa vedo proprio un guscio enorme con dietro spessissimo e poseidone disperato solo che te l'ho chiesto perché non non pensavo non che non sono non lo vi ce l'ho visto adesso perché mi hai detto di guardare non che zio di uno siano il bene ovviamente però già escludere e poseidone molo che tutta quella gente che c'è la non è poco va bene quelli del cinema che fanno sono contentissimi vedo come se avessero sparato i fuochi d'artificio hanno fatto proprio una festa quei fuochi d'artificio max come lo vedi max lo vedo bello forte sicuro di sé pronto ad andare lo vedo allora prima lo vedevo come era quindi un po c'è la parte la vita precedente ma poi era tipo un po così lo vedevo in piedi un po tipo abba chiuso bacchiata ecco adesso lo vedo molto più cioè quasi molto più muscoloso più possente più verso aperto verso verso la vita verso l'esterno ok tu come ti vedi ma io mi vedo contentissima in quella vibrazione altissima di quelle sfere bellissime va bene abbiamo finito con di elena disconnetti che da tutte e tutti e non ritorniamo